Saluto segretario Maurizio Acerpo, segretario Mauro Alporesi, segretario Marco Rizzo, direttore Andrea Cattone. Buongiorno a tutti. È un grande piacere partecipare all'evento di oggi e incontrarsi online con compagni e amici ripensando alla storia e guardando al futuro. Nella storia del pensiero umano nessuna teoria ha esercitato un'influenza così ampia e profonda sull'umanità come il marxismo. Il marxismo sottolinea la realizzazione della propria liberazione da parte del popolo, la realizzazione finale della libertà dell'uomo e dello sviluppo complessivo. Questa grandiosa teoria è profondamente incisa nella parola popolo, dimostrando la ferma posizione di condividere con il popolo gioie e dolori, amore e odio e dichiarando la necessità di realizzare l'effettiva felicità del popolo. Cento anni fa nasceva a Shanghai il partito comunista cinese. Fin dalla sua nascita ha sempre considerato il marxismo la sua ideologia guida fondamentale e sia in circostanze favorevoli che in circostanze avverse. La sua ferma fete nel marxismo non ha mai vacillato. Per cento anni cercare la felicità per il popolo cinese è il rigiovanimento per la nazione cinese e sempre è stata l'immuntabile intenzione dei comunisti cinesi. La forza motrice fondamentale della loro infaticabile ricerca ed è anche l'incoraggiamento adeguato per le loro aspirazioni sui grandi successi millenari. Attraverso molte traversie è un impegno continuo. Il partito comunista cinese, cresciuto dagli oltre 50 membri iniziali a più di 91 milioni, è diventato il maggiore partito marxista al governo ed è anche il più vigoroso ed entusiasta. Per cento anni il partito comunista cinese ha unito fermamente la realtà specifica cinese e le caratteristiche dell'epoca al passo coi tempi ha promosso la sinizzazione, la modernizzazione e la divulgazione del marxismo lanciandone costantemente nuove frontiere. Ha dato vita al pensiero di Mao Zedong, alla teoria di Deng Xiaoping, all'importante teoria delle tre rappresentanze e alla concezione di sviluppo scientifico generando una serie di indirizzi teorici scientifici come il pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era di Xi Jinping. Proprio questo tipo di fermezza teorica, consapevolezza e sicurezza di sé ha illuminato il corso colorioso di generazioni di comunisti cinesi che hanno lottato con tenaccia per la felicità del popolo cinese e il giovanimento della nazione cinese. Per cento anni in un paese con una millenaria storica feudale il partito comunista cinese ha unito e guidato il popolo a realizzare la più ampia democrazia popolare e il popolo è davvero diventato il patrone del paese, della società e del proprio destino. Abbiamo impeccato alcuni decenni per completare il processo di industrializzazione per il quale i paesi sviluppati hanno impeccato dei secoli, diventando repentinamente la seconda economia del mondo e aumentando significativamente la forza complessiva della nazione e l'influenza a livello internazionale. La vita del popolo cinese è passata dall'insufficiente sussistenza alla completa aggiadezza e si è storicamente liberata dalla povertà assoluta. La Cina ha mantenuto a lungo l'armonia e la stabilità sociale con il popolo che vive e lavora in pace, diventando universalmente riconosciuto come uno dei paesi più sicuri del mondo. Compagni e amici, il viaggio di un secolo è stato irrefrenabile e cento anni dopo la sua aspirazione originaria è destinata a rimanere ancora salda a lungo. Essendo a un nuovo pondo di partenza di un secolo di storia, il partito comunista cinese si trova ad affrontare nuovi compiti e ad andare incontro a nuove sfide. Come sempre, prenderemo come obiettivo della nostra lotta la soddisfazione della speranza delle masse per una vita migliore, ritenendo che l'umanità darà un ulteriore contributo alla propria missione. Intendiamo continuare a rafforzare scampi con i compagni italiani insieme alle persone che in tutto il mondo amano la pace, promuovendo insieme la costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso, dando impulso nel mondo alla stabilità pacifica e allo sviluppo prospero, escrivendo un capitolo nella storia di questa nostra generazione di comunisti. Grazie a tutti.